L'uomo politico deve essere di esempio per i cittadini, una bella frase molto citata ma poco applicata dalla nostra classe politica. L'eccezione che conferma la regola però c'è e si chiama Quirinale. Il Presidente della Repubblica si è autoridotto lo stipendio e ha diminuito le spese del palazzo con tagli dal 5 al 10% di retribuzioni e pensioni. In soldoni il Quirinale restituirà al Ministero dell'Economia nei prossimi tre anni oltre 15 milioni di euro. Cifra che si aggiunge agli oltre 56 milioni di euro risparmiati sul colle più alto dal 2006 a oggi. Tagli che sicuramente non minacciano né il benessere né il cerimoniale del Presidente e del suo staff e che sono una goccia nelle spese che i cittadini italiani sostengono per mantenere i politici che tra stipendi, auto, palazzi e altre spese costano a chi paga le tasse uno scherzo da 23 miliardi di euro l'anno. I tagli del Quirinale sono quindi un bel esempio. Ora non rimane che vedere se qualcun altro vorrà imitare il colle più alto.